La città di Solofra ospiterà la sede del Politecnico del Cuoio della Stazione Sperimentale Pelli di Napoli, le cui attività saranno integrate nella Fondazione ITS Moda Campania per attività di formazione in laboratorio. Risponderà alla domanda di competenze specialistiche e innovazione per tutte le aziende della filiera, investendo la formazione di aspetti tecnici da destinare a settore tessile, calzaturiero e pelli in generale. I costi si rivolgono a studenti occupati e non tra i 18 e i 50 anni. Il sindaco Nicola Moretti ha così dato parere favorevole individuando i locali del Palazzo Sant'Agostino nel centro città, a uso esclusivo del mondo della ricerca e della formazione della regione Campania. La sede del Politecnico del Cuoio può rappresentare con l'impegno di tutti gli attori della filiera Pelli italiana una vera e propria svolta di natura strutturale per lo sviluppo del distretto di Solofra. Si tratta di un piano di sviluppo ambizioso che grazie all'intervento del Comune potrà contare su una sede dove aggregare tutti gli attori e operatori economici nazionali e locali e soprattutto sviluppare le attività di formazione e ricerca e innovazione a favore delle imprese del distretto. Insomma, la giusta sede per il Politecnico del Cuoio della stazione sperimentale Pelli, le cui attività saranno integrate nella fondazione ITS Moda Campania-Miglia, le cui attività sono finanziate alla regione Campania e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.